Il rischio c'è, concreto, che il Pescara se lo ritrovi da avversario. Leonardo Mancuso, bomber con 19 reti nell'ultima stagione, a cui aggiungere le 9 di quella precedente, è inseguito dalle big della cadetteria. Empoli e Benevento lo vogliono e sembrano disposti a tutto pur di assicurarsi l'attaccante milanese. Passato alla Juventus nel gennaio 2018, Mancuso è rimasto in prestito per 18 mesi al Delfino. Per lui si prospettava ora un nuovo prestito in un club di Serie A, ma le dinamiche di mercato sembrano definire una nuova stagione da protagonista in Serie B, benché un pensierino lo stia facendo anche il Verona, ne ho promosso in A. E mentre Mancuso ha l'imbarazzo della scelta, il Pescara, proprio nel ruolo lasciato scoperto dall'ex Samb, resta sguarnito e continua a vagliare il mercato, alla ricerca di un centravanti da doppia cifra da consegnare a Luciano Zauri. Il tutto al netto della presenza in rosa di Cristian Bulino, che torna dall'Under 23 della Juventus per fine prestito, ma non sembra destinato ad assumere un ruolo di rilievo e potrebbe essere ceduto nei prossimi due mesi. Al di là dei nomi usciti in questi giorni, da Ciofani a Iemmello, da Tuminello a Melchiorri, fino all'ultima voce, il colombiano Seter, la sensazione è che i direttori, Repetto e Bocchetti, stiano lavorando sotto traccia per consegnare al presidente Sebastiani un profilo da contrattualizzare. Sul fronte uscite, sembra fatta per il passaggio di Nando Del Sole alla Juve Stabia, l'esterno napoletano, tornato alla Juventus per fine prestito, dovrebbe trovare a Castellamare di Stabia quello spazio non avuto a Pescara. Il paradosso, però, è che le Vespe hanno messo gli occhi anche su colui che è stato il competitor di Del Sole nell'ultima stagione, Manuel Marras, che potrebbe finire, anche egli, alla Juve Stabia. Se così fosse, il Pescara perderebbe, ma senza stracciarsi i capelli, l'unico attaccante dell'ultima stagione è ancora sotto contratto con il Delfino fino a giugno 2020. Resta caldissima la pista che porta la cessione al Bari del difensore Marco Perrotta, che potrebbe dunque sposare la causa di una società che vuole essere solo di passaggio in Serie C. Già ieri c'è stata un'accelerazione e lo sprint finale può essere agevolato ora che il giocatore è rientrato dalle vacanze. Resta da monitorare sempre la situazione di Gaston Brugman. Dopo il raffreddamento della scorsa settimana, il Benevento potrebbe portare una nuova offensiva, mettendo sul piatto sempre una contropartita tecnica, in prota o Iemmello, ma quest'ultimo ha un ingaggio troppo alto. Con l'eventuale partenza di Brugman, il Pescara proverebbe a chiudere col Napoli per il sostituto Luca Palmiero. Sempre col club di De Laurentiis, il Delfino tiene aperte anche le piste per l'attacco, in particolare i profili di Gennaro Tutino e Amato Ciciretti.